E allora, dopo il debutto di Pesaro, volevo vedere come stavo, se eravamo tutti in buona salute. Questo è il concerto, è lo spettacolo migliore che io sono riuscito a portare in tutti questi anni nelle rene, indoor e outdoor, all'aperto e al chiuso. Di primati ne ho conseguiti tanti, ne vado fiero. Prima non ci facevo caso, facevo anche un po' lo snobbo e il finto modesto, però in effetti tante cose le ho fatte per primo, addirittura l'album più venduto della storia del mercato italiano è un album che mi appartiene e che si chiama La vita è adesso. E ho pensato che la vita è appunto adesso, tante volte ho pensato sempre al dopo e mai tanto all'ora. E allora vi dico che cosa ho deciso di fare, mi sento di aver tagliato il traguardo di questi 60 anni, di questa bella gara, di questa bella impresa e ho deciso di concedermi il giro d'onore, di chiudere questa bellissima storia umana, musicale, umana per me, insomma per quello che mi riguarda, per tutte le soddisfazioni e le curve in alto e in basso che mi ha concesso. Spesso sono stati successi, qualche volta un successo minore, meno sperato, però quando sapevo che forse non ero nel modo giusto mi sono ritirato io, a volte sono stato 3-4 anni senza fare dischi, senza fare concerti. Adesso che il tempo ce n'è un po' meno ho affrettato i passi e mi sento di dire una cosa, mi ricordo una cosa che diceva mio padre che dal ring si scende sempre e si cerca di scendere quando si è vincenti, quando non si diventa dei pugili suonati. Ora io vorrei restare più che suonato un suonatore, sempre, il più possibile. E allora chiamo il mio giro d'onore, chiamo Mille Giorni, vorrei cantare e suonare ancora per mille giorni, mille giorni ancora, mille giorni in più e concedermi quello che fanno a volte proprio gli sportivi, vi dicevo che è un po' un'impresa, una sfida, quel giro in cui rallenti un po' e finalmente passi tra le persone così a goderti l'ultimo applauso, a goderti il fatto che insieme a tante di quelle persone hai costruito questo cammino, questa strada. Per cui grosso modo insomma terminerò la mia attività e cercherò di essere di parola insomma anche di arrivarci più che altro, quindi ce la metterò tutta, entro il 2026 facendo una serie di progetti, mettendoli in atto ma saranno tutti ultimi giri, nel senso che ognuno di questi poi non verrà chiaramente ripetuto. Questo perché gli anglosassoni il giro d'onore lo chiamano anche il giro della vittoria insomma, io mi sento di dovere tanto al destino, alla sorte a tutte le persone che mi hanno accompagnato e quindi insomma mi piacerebbe godermi veramente senza affanni, con un ritmo più rilassato questo periodo, questi mille giorni miei e spero di tante altre persone.